Qui su ESPN c'è un bellissimo articolo su Roman Reigns che parla della rinascita di questo atleta che da combattente molto odiato è diventato un eroe e poi è tornato al punto di partenza. Io vi invito a leggerlo, se comprendete l'inglese ci sono un sacco di informazioni e anche di riflessioni che vale la pena condividere. E allargare al cerchio degli appassionati. Io però, vedete anche abbastanza lungo, mi concentro quando Roman inizia a parlare, perché ci sono anche dei suoi estratti, della pandemia. Siamo nel marzo del 2020 e il Covid morde al collo gli States. Roman dovrebbe andare a Vestalmania 36 contro Goldberg e sfidarlo per il titolo di campione universale. Però, praticamente a ridosso dell'evento, si tira indietro. Si tira indietro perché lui, lo sappiamo, ha avuto la leucemia, l'ha mandata in remissione, però il suo sistema immunitario in parte è compromesso. Quindi, deve stare molto attento. E quando Roman è andato da Vince McMahon a parlare di questa cosa, dicendogli guarda che non combatto, la discussione wasn't a good one. Cioè, la discussione si è fatta molto tesa. Dice Roman, non c'erano abbastanza informazioni sul Covid. Al momento non c'erano i protocolli giusti per contrastare la pandemia. Perché su quest'ultima si sapeva ben poco. Quindi, ho preso la scelta che mi è sembrata la più intelligente. Mi sono tirato indietro e sono rimasto alla finestra a guardare cosa sarebbe successo. Nel frattempo, Paul Heyman aveva appena terminato la sua associazione decennale televisiva con Brock Lesnar. Brock Lesnar perderà il titolo WWE contro Drew McIntyre, proprio a Vrestalmania 36, e quasi in concomitanza con questo evento, il suo contratto con la WWE scade. Non si sa se Brock lo vuole rinnovare, non si sa se la federazione è interessata a riprenderselo, e di conseguenza Paul Heyman in questo istante finisce fuori dai programmi televisivi. E allora decide di chiamare Roman Reigns. Decide di chiamare Roman Reigns perché ha bisogno di nuovi stimoli, di nuove motivazioni. Nel frattempo, Roman Reigns si sta godendo la vita. Lui e la sua famiglia, tra l'altro gli sono nati due gemelli, si spostano in una nuova casa in Florida, che Roman definisce come un compound che ha tutto ciò di cui ho bisogno. Quindi si presume che sia una villa iper accessoriata, con anche del terreno e un sacco di facilities. Tra l'altro Roman in questo istante ha 36 anni, è ricco sfondato, ha sempre amministrato, lo dice lui stesso, i soldi con parsimonia, e quindi è ragionevole ipotizzare che abbia milioni e milioni di dollari come risparmi, pronti a fare da paracadute d'innanzi a qualsiasi crisi. È già stato pluricampione, è stato nel main event di Vrestalmenia per quattro volte, quindi è già un combattente simbolo della sua era. Per convincerlo a lasciare la sua abitazione nuova, con tutti i comfort, la sua famiglia, che si è allargata da poco, e per farlo tornare a sottoporsi alla schedule WWE, che comunque è impegnativa, soprattutto per i top, in un periodo di incertezza sanitaria, ecco che Roman si dice mi serve che sul piatto ci sia qualcosa di irresistibile. C'è proprio un virgolettato, doveva essere un'offerta irrinunciabile, qualcosa capace di entrare nella storia. E allora, parlando con Paul Heyman, si accorge di essere sulla sua stessa barca. Anche Paul Heyman, dopo l'esperienza con Lesnar, sta cercando un futuro simile. I due parlano, discutono, ed ecco nascere l'idea del tribal chief, il capo tribù, mutuata dai film dei malavitosi, o dalle serie tv legate al mondo malavitoso, più note in assoluto. Quindi Tony Soprano, Michael Corleone, ci sono i riferimenti al padrino, il tutto poi traslato in salsa samuana, per coinvolgere sia i cugini, che il genitore, e anche gli altri parenti che hanno già lottato in WWE. Volevo un personaggio che accumulasse potere, ha detto Roman. Volevo essere visto come la superstar con più potere di tutti i tempi, per quanto riguarda la WWE, e convertire e trasformare quel potere in forza. Un potere in stile mafioso, che comandasse rispetto, ma soprattutto paura. Queste sono le linee guida di ciò che poi abbiamo visto negli ultimi due anni circa. Le conversazioni al telefono con Paul Heyman si fanno sempre più serrate, e Heyman accetta di diventare il consigliere speciale di Roman Reigns, facendo un passo indietro, per quanto riguarda il lavoro microfonico, ma aggiungendo quella credibilità visiva che ha guadagnato in una decade al fianco di Brock Lesnar. Quindi questo è tutto il processo che ha portato alla nascita del Tribal Chief, del Capo Tribù, del Capo Tavola. Con Roman Reigns, che se leggete tra le righe, beh, ci stava quasi pensando a smettere. Magari per fare altro, ne abbiamo parlato di recente in una risposta che ho dato ad uno dei quesiti che mi avete sottoposto. Tra l'altro c'è anche un altro capoverso nel quale Roman Reigns racconta e parla di come una delle richieste che ha fatto e che ha ottenuto dalla WWE è quella di poter evadere da qualsiasi script gli venga proposto. Roman dice, ammetto che c'è chi mi propone un copione per le cose che devo dire, ma in moltissime circostanze quel copione mi piaceva poco e allora ho adattato la situazione che era lì descritta e l'ho interpretata con le mie parole, con i miei gesti, con le mie espressioni, con i modi di fare che ritenevo più consoni a un vero capo tribù. E questa cosa è importante, è importante perché non credo che stia mentendo e quindi va un po' a smussare molte delle critiche che vedono Roman Reigns poco capace di recitare, di improvvisare, eccetera. No! Tra l'altro io gli script della WWE li posso vedere nella loro interezza e vi garantisco che è vero che Roman Reigns tante volte ha mantenuto il significante di quello che doveva fare ma ha stravolto o ha ampiamente cambiato quello che c'era nero su bianco. Quindi questa cosa che io non vi ho svelato perché non posso, ma la dice lui, quindi la posso aggiungere perché è un protagonista che l'ha messa in piazza, c'è stata. C'è stata ed è un altro esempio ed è un'altra conferma della valore e della crescita delle skill che Roman Reigns ha avuto nel corso degli ultimi anni. Bene, questi sono i capoversi che volevo condividere con voi ma ripeto, se conoscete l'inglese dategli una lettura che è un pezzo scritto bene e che ci dà tantissime informazioni. Un po' ve le ho ribattute, ve le ho portate, ve le ho messe sul tavolo e ora sta a voi. Se vi va, potete commentarle qui sotto nello spazio apposito. Grazie. Grazie.